Portaseccia Questa è diffamazione Voi non dovete approfittare il fatto Facciamo le persone civili, per favore Mi permetto di invitare il governo A emettere ordinanze perentorie Lanciafiamme Se si chiude, si chiude Bisogna chiudere tutto Tutto quello che non è indispensabile In questo caso i morti li conteremo a migliaia